Padre Santo, Dio della mia vita! Dio della mia vita! Abbiamo molti morti, molti morti, molti morti! La reazione più spontanea è questa, quella di una donna che passando a bordo di un mezzo pubblico si rende conto dell'entità della catastrofe che ha coinvolto ancora una volta un gruppo di migranti diretto al confine con il Messico. Sono almeno 53 le vittime dell'incidente che ha visto protagonisti due camioni migranti. Si trovavano a bordo del rimorchio di uno dei mezzi che si è capovolto nello scontro, secondo quanto ha reso noto l'ufficio del procuratore. Vi sarebbero anche più di 70 persone ferite dalle ricostruzioni. A provocare l'incidente è stato uno dei due camion che ha preso una curva a una velocità troppo sostenuta. Le prime immagini che arrivano sono queste, girate da un uomo con il cellulare. Si vedono feriti e vittime su teloni colorati appoggiati sulla strada. Non si sa nemmeno quanti fossero in tutto i passeggeri nascosti nei rimorchi. Almeno 150 partiti dal Guatemala, ammassati l'uno all'altro nel tentativo di raggiungere il confine con gli Stati Uniti d'America. L'incidente è uno dei più pesanti nella storia recente dell'emigrazione centroamericana in Messico. Su quanto accaduto, la conferenza episcopale messicana ha emesso una nota nella quale testimonia la propria vicinanza alle famiglie delle vittime. Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha espresso in un messaggio su Twitter il suo cordoglio per l'incidente, così come il governatore dello Stato, Rutiglio Escandoni.